Bentornati, bentornati e anche oggi ci sono delle cose da dire. Partiamo da Openvar, visto che l'altro giorno sono usciti fuori gli audio di Fiorentina Inter e sapevate che sul rigore Sommer sfioricchia la palla? E questa per qualcuno è la marotta lì, capito? Per qualche fenomeno che evidentemente di calcio non capisce niente e che vuole solamente andarci contro così per il puro gusto di farlo. Com'è che a noi arrivano certe immagini dalla tv e al VAR ne mandano altre? E Aureliano non è che si preoccupa di chiedere altre sequenze per capire meglio la situazione. No! Ci mette 5 cazzo di secondi per prendere una decisione sbagliata e dare un rigore che non esiste. E Sommer, ok per il rigore, siamo tutti contenti, ma abbiamo rischiato a Firenze di perdere due punti per una decisione del genere. Ma in generale è stato un arbitraggio scandaloso quello di Fiorentina Inter. Sul gol di Lautaro c'è di un minuto perché? Quando non c'è mai nulla. Solo uno disonesto intellettualmente può dire il contrario. Eh ma il rigore che manca la Fiorentina perché Bastoni trattiene Ranieri a parte che sono entrambi a trattenersi. E appena Ranieri vede che l'arbitro lo vede, scusate il gioco di parole, si lascia andare perché Bastoni non spinge mai Ranieri. La spinta è quando tu fai così. È un po' come quella di Bissec visto che avete tanto rotto le palle. Quella sì è una spinta. Ok? Quella in Milan Frosinone è una spinta. Quella che avvia il gol dell'1-0 del Milan. Quella è una spinta. Quella di Bastoni su Ranieri non è mai una spinta. Ranieri appena vede che ha l'arbitro l'intorno si lascia andare. E il 99% delle volte quell'azione non viene mai calcolata dall'arbitro. Giustamente. Forse paradossalmente è stata l'unica cosa positiva che ha fatto Aureliano l'altra sera. Perché poi il giallo a Bastoni, dov'è la volontarietà del braccio? Non è che può smaterializzarsi. Sì, fischi, fallo. Ma dov'è che deve essere ammonito in quel tipo di situazione? Di che stiamo parlando? Poi, eh ma si è punita l'imprudenza di Sommer. E allora secondo questo ragionamento perché quello di Danilo Suturam non è rigore? Danilo fa un intervento imprudente. Eppure lì zero, nulla, nada. Al VAR non hanno visto niente. Tutto a posto, vero? Quindi per favore non prendeteci per il culo. Invece di dire Marotta League, tutte ste minchiate. Abbiamo di fronte una categoria di arbitri. Evaristi? Scarsa. Poi anche lì c'è un regolamento ma deve andare ad interpretazione. Ma com'è sta storia qua? Cioè, io sinceramente sono confuso. Vabbè, l'abbiamo vinta quella partita, grazie a Dio, e abbiamo dimostrato di essere più forti di tutto e di tutti. Arriviamo all'ultima cosa che mi ha fatto francamente non ridere di più. Il signor Roppini con Brambati hanno annunciato che Marotta tornerà alla Juventus. A parte che Marotta mi pare che abbia rinnovato fino al 2027, ma proprio questa notizia ha fatto a doc per rompere le palle. Dai, su. Signor Roppini, lei in tv sa per quale motivo. Per cui, inutile che faccia il fenomeno, anche lì con certi post, con certe dichiarazioni. Dai, su. Sei anche ridicolo dopo un po'. Brambati, vabbè, dà una vita che è contro l'Inter, per cui non mi sorprende nemmeno. Ragazzi, non diamo retta a certi cialtroni. Pensiamo a noi, perché queste persone cercano solamente di destabilizzarci. Ok? Marotta, fino al 2027, rimarrà con noi. Oh, poi nella vita tutto è possibile, ma anche lì. Di D'Amblè, eh, Marotta ritornerà alla Juventus. Vabbè, contenti voi, contenti tutti. Vabbè ragazzi, questo era il video, ci aggiorniamo. Detto questo, sempre Forza Inter. Seguite la pagina per altri contenuti.